Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono code a tratti segnalate tra Chiusi e Incisa Reggello e tra Firenze Imprunita e Aglio. Code a tratti anche sulla direttissima tra Aglio e Firenzuola. Fare inoltre attenzione per nebbia a banchi segnalata tra Roncobilaccio e Aglio sul tratto appenninico. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Ricordiamo infine l'obbligo di dotazione invernale a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!